Allora, appena stato dato lo shuffle up and deal, vediamo che infatti il torneo è iniziato da meno di un paio di minuti. La sala è ancora abbastanza vuota, in realtà stanno continuando ad arrivare dei giocatori. E' appena arrivato Daniele Mazzia qua, al tavolo qui Cristiano Blanco con un cappello piuttosto pacchiano. E altri cappelli simpatici, c'è questa, pare che ci sia questo nuovo giochetto sul peggio vestito, sul peggio cappello. Vediamo di fare adesso un po' di foto ai giocatori più conosciuti, a Mattia che è al momento al tavolo e a presto quindi.